La nostra ricerca è originale perché noi abbiamo cercato di vedere i vantaggi comparativi dei modi diversi di fare famiglia, cioè dire fare famiglia in un modo o in un altro è equivalente come dice molta gente che dice ma possiamo non sposarci, anzi non sposarsi vuol dire avere una relazione più libera, più affettiva e così via. Ecco, noi abbiamo trovato che la famiglia invece che noi chiamiamo normo costituita, cioè costituita da una coppia uomo-donna sposati con i figli, questa forma familiare che è presente ovviamente nella gran parte dei paesi è quella fondamentalmente più soddisfacente, quella che genera più capitale umano, più capitale sociale per la società. Nella misura in cui ci si discosta da questa forma di famiglia, se hanno coppie senza figli o genitori soli o persone sole, allora la famiglia diventa più debole, più fragile, diventa più povera, ha bisogno di assistenza e così via. Quindi il risultato è che la famiglia normo costituita è il vero capitale sociale della società. Si riafferma che è un'autentica risorsa? Si riafferma che non è appunto un peso oppure un'istituzione del passato, ma è una risorsa e quindi anche una istituzione del futuro. La famiglia in qualche modo anticipa il futuro e quindi hanno in qualche modo torto tutti quelli che dicono che la famiglia diventa sempre più un rischio, che è meglio di non sposarsi, che è meglio avere pochi figli o nessuno e così via. È esattamente il contrario. Perché secondo lei in molte società, soprattutto occidentali, la famiglia, questo tipo di famiglia gode di così scarsa attenzione? Ma la ragione è che lo Stato e il mercato non vedono la famiglia. Cioè il mercato usa la famiglia per i consumi, la usa per il lavoro, c'è un grande sfruttamento da parte del mercato nei confronti della famiglia dal punto di vista del lavoro e dei consumi, ma il mercato non sostiene per nulla le relazioni familiari, anzi tende a eroderle, a sbriciolarle, a frammentarle. E così anche lo Stato. Lo Stato usa la famiglia per i propri fallimenti, come dimostrano tutti i sistemi fiscali che in generale non sono equi nei confronti della famiglia. Quindi la verità è che le due istituzioni che trascinano la società odierna, che sono lo Stato e il mercato, giocano contro la famiglia. Ecco perché la famiglia non è considerata un bene, ma solo una risorsa da sfruttare e quindi da indebolire in qualche modo. Grazie a tutti.